Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere su un iPhone, in particolare il 6S, come creare un collegamento attraverso il browser di Apple, ovvero Safari, nella home. Questo equivale per un determinato sito web oppure per una determinata pagina all'interno del sito web. Mi spiego meglio, se prendiamo ad esempio Facebook, possiamo creare un collegamento alla home di Facebook, oppure, nello specifico, possiamo andare a creare un collegamento a una determinata pagina o profilo di Facebook. Questo ci consentirà di risparmiare innanzitutto memoria, ovvero evitare l'installazione dell'applicazione ufficiale, risparmiare dati di rete o eventualmente del Wi-Fi, risparmiare soprattutto la durata della batteria. Perciò, invece di installare l'applicazione ufficiale di Facebook, come ho fatto io, possiamo andare su Safari e una volta raggiunto il sito web desiderato, basta cliccare sulla prima icona in basso, andare a cliccare Aggiungi a home. Possiamo in aggiunta rinonimare a piacere il collegamento e come vedete avremo sulla nostra schermata home la pagina di Safari che ci permetterà di utilizzare Facebook nello stesso modo dell'applicazione. Unica pecca però, naturalmente, è il non poter ricevere messaggi, notifiche, però rispetto a quanto detto prima, rispetto ai vantaggi che ho menzionato, risparmieremo memoria preziosa sul cellulare, la batteria che purtroppo è una pecca per tutti gli iPhone e soprattutto la connessione ai dati. Bene, per questo video è tutto, spero che possa essere utile. È un video molto semplice, ma che... Bene, per questo video è tutto, spero di essere utile e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.